Continua nei sopralluoghi degli assessori comunali Angela Brandi e Elisa Lodi per verificare che i lavori in 26 edifici scolastici procedano secondo il programma prefissato e adeguato alla regolare riapertura in tempo per l'inizio del nuovo anno scolastico. Stamane è stata la volta della scuola dell'infanzia statale Marcello Fraulini di Opicina a Villa Carsia e della scuola dell'infanzia comunale Azzurra di via Puccini 63. Abbiamo verificato che i lavori stanno proseguendo a ritmo celere, lavorano anche il sabato e la domenica in questo periodo non facile che è quello di ferragosto siamo molto soddisfatti e continueremo nei nostri sopralluoghi perché dobbiamo avere veramente la sicurezza che i lavori si concludano entro il mese. Quindi una risposta alle famiglie, non abbiate preoccupazione perché le scuole inizieranno regolarmente. L'intervento riguarda la messa in sicurezza dei solai che quindi vengono rinforzati con l'installazione di controsoffitti la cui precarietà era stata già segnalata alla giunta guidata da Roberto Cosolini. Appena insediatosi l'esecutivo di centrodestra ha immediatamente provveduto con le variazioni di bilancio a stanziare i 700.000 euro necessari ed ha affidato con la procedura d'urgenza l'esecuzione dei lavori. Dopo il nostro insediamento abbiamo avuto conoscenza dell'esistenza di questa urgenza in queste scuole, io e la collega dell'assessore Brandi ci siamo subito attivate e quindi abbiamo fatto partire l'attività su 26 scuole. Abbiamo constatato che gli interventi stanno procedendo molto bene, le imprese stanno lavorando bene in un periodo che è quello di agosto con le difficoltà delle ferie. Grazie.